buongiorno a tutti se hai paura del dentista guarda questo video in realtà questo video è anche rivolto a giovani colleghi odontoiatri o studenti di odontoiatria molto spesso i pazienti hanno paura del dentista o anche dei trapani che vengono utilizzati ma perché c'è questa paura del dentista si chiama appunto odontofobia capiamolo insieme il dentista ovviamente è uno dei lavori addirittura più antichi di tutto il mondo addirittura sin dai tempi delle civiltà preistoriche già si esercitava tra virgolette l'arte del dentista poi sono nati diciamo intorno al medio ivo i cosiddetti barbieri dentisti cioè queste figure che tagliavano i capelli e anche tiravano denti facevano interventi chirurgici dermatologici come la rimozione di cisti sul corpo eccetera però per fortuna negli anni il mestiere ha subito una drastica evoluzione fino a quando il dentista almeno in italia è stato considerato per legge come un medico tant'è che la dizione medico dontoiatra o medico dentista per legge risulta essere corretta e in più le nuove leggi eccetera sanciscono anche il diritto inalienabile del paziente di non soffrire per cui se sei un paziente e hai paura del dentista esistono diverse tecniche per cercare di ridurre questa paura come la sedazione conscia col protossido di azoto oppure anche tramite appunto una mascherina che viene utilizzata per via nasale o anche tramite un ansiolisi quindi prendendo delle compresse prescritte ovviamente dall'odontoriatra di benzodiazepine prima di un eventuale intervento odontoriatrico e così via in più se per esempio hai paura dei trapani per il dentista esistono anche delle tecniche che non prevedono assolutamente per curare le carie l'utilizzo di trapani però tra queste e questo acronimo e questo acronimo che ho scritto qui alla fine che appunto è ART ART sta per tecnica restaurativa atraumatica cioè restaurative atraumatic technique la tecnica restaurativa traumatica è una procedura basata proprio sulla rimozione del tessuto cariato dal dente utilizzando solo degli strumenti manuali e non strumenti notanti quindi no trapani ricostruendo appunto poi il tutto non attraverso l'utilizzo di resine composite bensì attraverso l'utilizzo di soli cementi vetro ionomerici e questa tecnica è stata riconosciuta come una vera tecnica odontoriatrica anche dall'organizzazione mondiale della sanità se non ricordo male verso la fine degli anni 90 e tuttavia l'odontoriatria come dicevo prima ha subito dei grandi cambiamenti radicali rispetto a quella che era l'odontoriatria degli anni 80 per cui adesso la conservativa cioè la ricostruzione di un dente cariato si esegue di solito sempre con l'utilizzo della diga si esegue se che è fondamentale si esegue sempre con l'utilizzo di sistemi ingrandenti quindi molto spesso i dentisti utilizzano microscopi sistemi gaussiani occhialetti eccetera eccetera per cercare di riprodurre in maniera fedele quella che è l'anatomia del dente fare un restauro che sia il più preciso possibile quindi comunque l'odontoriatria ha subito questo grande cambiamento infatti questa tecnica viene sempre meno utilizzata oramai anche i materiali estetici come la resina composita classica è quella più utilizzata però anche i cementi vetro ionomerici che vengono invece utilizzati in questo tipo di tecnica comunque ad oggi vengono sempre utilizzati e ci sono le indicazioni cliniche per poterli impiegare perché sono validi come materiale per la ricostruzione di un dente diciamo cariato e viene sempre meno utilizzata questa tecnica proprio perché fondamentalmente è utilizzata soprattutto nei paesi poco sviluppati dove viene anche eseguita da personale ausiliario nei paesi poco sviluppati perché appunto non hanno a disposizione trapani strumenti rotanti o varie strumentazioni complesse e lì ovviamente c'è un problema di carenza di un sistema sanitario però si può anche assolutamente utilizzare in maniera pochettino più evoluta anche in italia ed è indicata soprattutto in odontoriatria pediatrica e quindi in quei bambini che magari hanno veramente paura del trapano nonostante si cerchino di attuare tutte le varie tecniche di diciamo creare fiducia col bambino eccetera se il bambino ha paura del trapano si può utilizzare diciamo questo tipo di tecnica o anche in pazienti anziani o in pazienti odontofobici cioè pazienti che hanno paura del dentista hanno paura del trapano iniziano appunto ad avere una sudorazione fredda appena vedono il trapano eccetera nonostante si cerchi comunque di spiegare al paziente adulto di tranquillizzarlo che non c'è niente di pericoloso però magari sarebbe anche peccato vedere un paziente poi sulla poltrona del sincope vasovagale quindi questo tipo di tecnica potrebbe diciamo essere utile anche in pazienti adulti odontofobici se eseguite in maniera corretta però non si può sempre utilizzare diciamo che quando si prepara la cavità cariosa per eseguire questa tecnica bisogna andare a rimuovere tutto il tessuto cariato praticamente fino a coinvolgere la dentina e a sentire il cosiddetto crepitio dentinale e inoltre per poter eseguire questo tipo di tecnica è necessario che la carie sia accessibile agli strumenti manuali laddove non è accessibile bisogna utilizzare strumenti rotanti solitamente si utilizza su superfici singole se la carie intacca superfici multiple questa tecnica non è più tanto indicata non si può fare quando quando ci sono dei disordini pulpari come per esempio la pulpite irreversibile un'esposizione della polpa un ascesso con una fistola in più quando appunto gli strumenti manuali non riescono ad accedere a livello della carie permette appunto di creare un buon ambiente di lavoro bisogna appunto posizionare in maniera corretta il paziente ma anche l'operatore si deve posizionare in maniera corretta serve tutto lo strumentario idoneo che vedremo e anche dei materiali adeguati generalmente si utilizzano appunto i cementi vetro ionomerici inoltre questa tecnica permette un buon controllo delle infezioni se la carie posizionata in un punto ottimale l'accessibilità è perfetta è una tecnica molto economica sia per l'odotoiatra che anche per il paziente ed è una tecnica anche abbastanza conservativa perché tende a risparmiare il tessuto sano e in più permette di lavorare in tutto comfort perché appunto non si monta la diga in questo tipo di tecnica e appunto è anche più veloce più pratica più immediata più clinica se vogliamo e ovviamente questo tipo di tecnica fondamentalmente è utile anche in quei casi in la diga non è possibile montarla ci sono delle eccezioni in cui la diga non si può montare e quindi questo tipo di tecnica è indicata i cementi vetro ionomerici al posto dei compositi si utilizzano perché appunto hanno un buon legame allo smalto e alla dentina infatti i compositi l'adesione sulla diciamo superficie dentale alle volte è un pochettino complesso da ottenere rilasciano fluoro sono cariostatici e sono facili da utilizzare diciamo che ci sono quei cementi metroni numerici che devono essere miscelati e quei cementi metroni numerici invece che sono già premiscelati che si possono direttamente applicare a livello della cavità cariosa quali sono le fasi dapprima viene isolato il dente con dei rulli di cotone poi si asciuga e si pulisce il dente si amplia l'ingresso leggermente se la lesione è molto piccola si rimuove tutto il tessuto cariato con gli strumenti manuali che sono tagli a smalto ed escavatori si pulisce nuovamente la cavità se necessario bisogna proteggere la polpa con l'idrossido di calcio si condizionano le pareti della cavità si inserisce il cemento fino a sovreriempire leggermente e poi si applica la pressione con il dito con la fingerprint technique e si controlla l'occlusione si scarica in eventuali precontatti di interferenze occlusali alle volte può essere indicato applicare vasellina per proteggere appunto il cemento vetro di numerico dire al paziente che comunque almeno per un'ora non deve mangiare altrimenti può staccarsi la ricostruzione e alle volte possono essere utili strisce di milar e cunei per riprodurre le superfici interprossimali la restaurativa comunque rappresenta solo una parte dell'intera salute del cavorale ad oggi ci sono tanti altri che si occupano solo di restaurativa perché appunto sta diventando più complesso il lavoro dell'odontoiatra però ricordiamo sempre che solo una parte dell'intera salute del cavorale e che noi odontoiatri non curiamo il dente andando appunto a ricostruire cioè la cura della carie non è la ricostruzione la cura della carie in primis è basata sulla prevenzione della carie non rimuovere quelli che sono i fattori di rischio istruendo al paziente ad una corretta prevenzione della quale in questo video non parlerò perché ne ho già parlato in altri video bene vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video se avete domande o dubbi commenti potete appunto lasciarli sotto lasciate anche un like